Non si scusa e non si dimette Dominic Cummins, consigliere del premier britannico Boris Johnson, accusato di aver violato le misure restrittive anti-Covid-19 poste dal suo stesso governo. Cummins ha raccontato la sua verità in una dettagliata conferenza stampa, appuntamento quasi inedito per un consulente che deve il suo ruolo a un mandato fiduciario e non alla scelta dell'elettorato. In una situazione molto complessa ho cercato di esercitare il mio giudizio nel miglior modo possibile. Credo di essermi comportato in maniera ragionevole e legale, bilanciando la sicurezza della mia famiglia, la situazione difficile al 10 di Downing Street e l'interesse pubblico al quale potrei contribuire. Boris Johnson, la cui gestione dell'emergenza sanitaria è messa in discussione dai suoi detrattori, si attiene alla versione di Cummins. Non credo che nessuno qui abbia fatto nulla per compromettere il nostro messaggio, ha dichiarato il Premier. Quello che vogliamo rendere assolutamente chiaro al pubblico è che l'unico modo per risolvere questo problema è stare attenti, seguire le linee guida, controllare il virus e salvare vite umane. I membri del gabinetto, Dominic Rabe e Michael Gove, hanno entrambi palesato il loro sostegno, dicendo che Cummins ha seguito le regole e che alcune accuse sono false. Per loro, il consigliere non ha fatto niente di sbagliato. Cummins è stato accusato di aver aggirato le misure di isolamento, guidando per 400 chilometri a nord, in modo che i suoi genitori potessero prendersi cura del figlio di 4 anni in caso di contagio. La fronda, in cui figurano anche 20 deputati conservatori, chiede che il consigliere venga licenziato.